Ok, buonasera a tutti, io sono Andrea Benassi, sono un tecnologo della ricerca di Indire e ecco il titolo di questo tavolo è Una scuola senza la scuola è possibile? Grazie, vorrebbe essere una domanda aperta e quindi io farò una breve presentazione proprio perché mi piacerebbe che a questo tavolo, pur essendo un tavolo un po' strano mi piacerebbe vedervi e mi piacerebbe interagire, certo c'è la chat e quindi vi chiedo se avete delle domande ma soprattutto se avete un vostro pensiero su quello che dirò nei prossimi minuti e credo sì che ce ne siano molti i pensieri possibili su questo titolo, su questa domanda del titolo siete pregati di inserirlo in chat così che io possa raccogliere quello che viene detto e lo possa in qualche modo rimettere a fattore comune e discutere insieme. Allora, chiariamo un attimo che cosa si intende per scuola senza la scuola anzi io partirei da un periodo che conosciamo bene, quello del lockdown di primavera del 2020 dove la scuola non c'era. Ora io in questa slide che voi vedete potete vedere il risultato di un'indagine che Invire ha fatto a giugno del 2020, tra le varie domande che sono state fatte a 3.700 insegnanti italiani c'era quella su quanto secondo loro la didattica a distanza avesse funzionato, fosse stata efficace allora vedete che tutte quelle barre che vanno verso il basso stanno a testimoniare quanto in realtà il gradimento della DAD sia stato molto basso vedete ci sono quattro famiglie di grafici, una per la scuola di infanzia, poi per la primaria secondaria di primo e secondo grado e come si può intuire insomma il gradimento più basso in assoluto c'è stato per la scuola dell'infanzia dove tutte le dimensioni prese in esame i livelli di apprendimento, la qualità dell'interazione e della comunicazione, la qualità della relazione educativa, di cooperazione e collaborazione, l'autonomia e la responsabilità degli studenti la qualità dell'attenzione, la qualità della relazione tra pari e i livelli di motivazione e coinvolgimento sono tutti molto bassi con una punta negativa sulla qualità della relazione tra pari. Se poi invece si va a vedere la primaria e la secondaria invece si vede quella barra verde che invece va in su è quella della autonomia e responsabilità degli studenti che invece secondo il giudizio di molti insegnanti ha avuto un incremento durante la DAB rispetto alla scuola chiamiamola normale. Però ecco noi l'abbiamo sentito, credo che l'abbiate sentito anche stamani se eravate presenti negli interventi, ma soprattutto in generale la critica alla DAB, ecco io l'ho messa tra virgolette perché è stata proprio detta così come l'ho scritta stamattina da Tito Boeri durante il suo intervento, un sostituto imperfetto della didattica in presenza. In altre parole il giudizio sulla didattica a distanza è quello che non riesce a sostituire la didattica in presenza e in questi giorni insomma voi sapete che ci sono polemiche forti sul fatto che la scuola sia chiusa e su quanto sia possibile a distanza poter fare scuola. Forse è proprio l'idea di scuola che è messa in discussione dalla distanza al punto che per qualcuno se la scuola chiude non è possibile fare scuola. Qui a 500 metri da dove sto parlando una settimana fa un professore di un liceo si è messo a insegnare proprio di fronte al liceo, giusto per rimarcare che se quel posto chiude la didattica non si può fare, tanto vale farla fuori dalla scuola a sottolineare quanto quello sia il luogo deputato alla didattica e che non possano essercene altri. Perché dico questo? Perché ecco, la presenza e l'ambiente in presenza da molte parti è considerato insostituibile, nel momento in cui facciamo qualcosa che non è in presenza non possiamo fare altro che surrogare la presenza per quanto possibile, diventa difficile fare qualcosa che possa competere con quello che si riesce a fare a scuola. Ora, è evidente che siamo in un momento particolare, la scelta di distanza non è una scelta ma è un obbligo, siamo costretti in questo momento, siete, i docenti sono costretti a insegnare a distanza, non l'hanno scelto e questo è evidentemente un fattore da tenere in considerazione. Ci sono però delle scuole che lo stanno scegliendo e l'hanno scelto anche prima dell'avvento del Covid. Ora qui vedete che è l'home page dell'Università Harvard americana dei corsi online, cioè di una scuola che viene frequentata a distanza. Ora, l'università, direte, è abbastanza possibile fare una scuola a distanza senza andare nel luogo fisico. In realtà ci sono degli esempi, iniziano a esserci degli esempi, anche di una scuola a distanza che non è solo l'università. Iniziano a esserci delle scuole, non in Italia, all'estero, in questo caso a Londra, che propongono un'offerta di scuola a distanza, loro la chiamano virtual school, che investe, che riguarda già gli studenti della scuola primaria. Ora, c'è un'altra parola, anche questa vorrei mettere sul piatto per iniziare poi la discussione. C'è un'altra parola che in questo periodo circola tanto nella scuola, che è questa, no? Didattica digitale integrata. Ora, parlando con gli insegnanti, io mi rendo conto di quanto questa parola in realtà non voglia dire una cosa precisa, ma ne voglia dire tante. Forse la colpa è proprio del decreto ministeriale che si dimentica, il decreto del 20 agosto di questa estate, si dimentica di definire, di dare una definizione della didattica digitale integrata. Si limita a descriverla in questi termini che ho messo a schermo, e cioè la didattica digitale integrata è una metodologia innovativa di insegnamento e apprendimento, complementare rispetto alla didattica in presenza, che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza della scuola secondaria di secondo grado, nonché in caso di nuovo lockdown, che in effetti è arrivato puntuale, di tutti i gradi di scuola. Quindi c'è un po' di confusione, perché la didattica digitale integrata è complementare alla didattica in presenza. Quindi è altro rispetto alla didattica in presenza. La complementa. Detta così, verrebbe da pensare che la didattica digitale integrata è una specie di nuova parola a indicare la didattica a distanza, perché anche quella complementava la didattica in presenza. O forse la didattica digitale integrata è quella didattica a distanza che si fa quando è possibile praticare anche la presenza. Il decreto non lo spiega. Ci sono però alcune persone, soprattutto in questo caso io mi riferisco al professor Piercesare Rivoltella dell'Università Cattolica di Milano, che individua quattro scenari di didattica digitale integrata. Quella dual modo o ibrida, quella alternata, la didattica per progetti e la didattica per classi aperte. Andiamo a vederle una per uno? Allora, innanzitutto la didattica digitale integrata di tipo ibrida o a due modi. In questo caso stiamo parlando di una situazione, un setting didattico in cui alcuni studenti sono in presenza e altri sono a distanza contemporaneamente. La motivazione che in questo momento pesa per questo tipo di didattica è il contingentamento degli accessi a scuola. I punti di attenzione sono ovviamente i requisiti, sono una qualità della connessione, evidentemente, ma anche un punto di attenzione che è molto discusso in questi giorni è la qualità del feedback. Molti lamentano che la parte che non è in presenza in qualche modo restituisce molto meno all'insegnante e al resto della classe di quella che è invece la parte in presenza. Vado alla seconda, al secondo scenario, quella alternata, la didattica alternata, cioè gli studenti sono a giorni alterni a scuola o online. Anche qui la motivazione è il contingentamento degli accessi, l'insufficienza di spazi. E ecco, un punto di attenzione è che per certi versi questo tipo di scuola può essere considerata o assimilabile alla modalità flip e di classe, che non sto a spiegare in questo momento, ma credo che sia un termine abbastanza conosciuto e diffuso. Poi arriviamo invece a altri due scenari, inizio dalla didattica per progetti applicata alla didattica digitale integrata, che prevede in questo periodo un lavoro in gruppo sia in presenza che online. Non solo rivolto alla discipline tecniche, cioè quelle che storicamente lavorano per progetti, perché in genere hanno un progetto e un prodotto da tuttavia avanti. Non solo come a volte succede per una situazione di didattiche particolari come un recupero debiti, ma anche per la possibilità che questa modalità offre per lavorare per livelli, studenti con livelli diversi. Qui il punto di attenzione è il ruolo del docente, perché qui la didattica non è quella in presenza tradizionale in cui c'è un insegnante che spiega e dove ci sono gli studenti tutti ai banchini, perché evidentemente la didattica per progetti mista online e in presenza, prevede che il docente sia in qualche modo più una persona da sentire per poter supportare il lavoro, per poterlo semplificare quando è necessario o problematizzarlo quando è necessario. E poi arriviamo all'ultimo dei quattro scenari individuati dal professore Voltella, cioè la didattica per classi aperte, e cioè aggregazioni temporanee di studenti per competenze, progetti o interessi. Ecco, a cosa serve? Qui diciamo così che è lo scenario più complicato, perché qui evidentemente si va a disarticolare la classe, e cioè a smontare il trittico ora materia insegnante. Questo significa anche poter adottare una economia di scala differente a quella della classe da 20-25 alunni, perché un docente può lavorare con più classi contemporaneamente. Ora, capite bene che se arriviamo a questi ultimi, se guardiamo, prendiamo in considerazione questi ultimi scenari, quasi quasi la didattica digitale integrata permette di fare delle cose che nella didattica in presenza non sarebbero possibili. Ad esempio la didattica per classi aperte, anche se in realtà dire che non sarebbero possibili è sbagliato perché queste esperienze ci sono. Però è evidente che in una situazione di questo genere la disarticolazione della classe è paradossalmente una possibilità più praticabile rispetto alla scuola normale, perché nel doversi riorganizzare per gestire una situazione come quella attuale, una possibilità che ha la scuola è proprio di progettare una disarticolazione della classe che non preveda appunto il trittico ora materia insegnante e dove l'insegnante possa adottare un'economia di scala differente perché può far lezione a 60 studenti invece che a 25 per volta e quindi a più classi contemporaneamente. Chiaramente questa soluzione prevede un'organizzazione della scuola forte alle spalle e una decisione molto netta su quello che può essere un approccio alternativo abilitato dalla didattica digitale integrata. Dico questo perché evidentemente se usciamo dal fatto che la scuola a distanza deve fare il verso a quella in presenza, finendo irrimediabilmente per arrivare seconda, cioè per essere, come avevo virgolettato prima, per essere una soluzione imperfetta. Ecco, qui invece ci si scosta, si va a fare un altro tipo di scuola in cui la scuola esiste sempre ma i luoghi della didattica si diversificano e superano i limiti fisici dell'aula come spazio fisico in cui ospitare una classe per volta in quella ora con quell'insegnante. Vado avanti velocemente perché vorrei lasciare un po' di tempo alla discussione, anzi la maggior parte del tempo alla discussione. E quindi concludo, poi vedo che c'è già una domanda, concludo velocemente con un salto nel 2049. Mi spiego meglio. Allora, quella che vedete è la copertina di un libro che si chiama Ready Player One. Probabilmente voi conoscete e avrete sentito dire il film che è stato tratto da questo libro, perché è un film di Steven Spielberg del 2018, non famosissimo ma che comunque ha tratto dell'attenzione, perché in questo film di fantascienza evidentemente si parla di una realtà distopica, come spesso succede ultimamente nei film di fantascienza, quindi un futuro non gradevole in cui a causa di una crisi energetica la qualità della vita è peggiorata, è tanto peggiorata che la maggior parte delle persone decide di vivere una seconda vita nel virtuale, in un mondo virtuale condiviso. in questo libro, in questo capitolo del libro, si inizia proprio con la descrizione di una scuola del 2049, lo ripeto per correttezza, stiamo parlando di fantascienza. Ve lo leggo velocemente. Le palpebre del mio avatar si spalancarono e mi ritrovai nell'aula di storia mondiale, tutti i banchi intorno al mio erano occupati da altri studenti e il nostro insegnante, il signor Avenovic, si stava materializzando davanti ai nostri occhi. Apro parentesi, qui stiamo evidentemente parlando di un insegnante che si collega in una classe virtuale, non nel senso di Google o di Teams eccetera, ma proprio nella realtà virtuale. L'avatar del signor Avenovic, l'insegnante, era un professore di college barbuto e corpulento, aveva un sorrisetto contagioso, indossava un paio di occhiali con la montatura in metallo e una giacca di tweed con le toppe a gomma. Quando parlava sembrava sempre che stesse leggendo un passo di Dickens. Mi piaceva, era un bravo professore e ovviamente non sapevo chi fosse nella realtà né dove vivesse. Non potevamo nemmeno sapere il suo vero nome o se fosse davvero un uomo. Per quanto ne sapevamo avrebbe anche potuto essere una piccola Inuit che viveva ad Enco e Regine Alaska che aveva scelto questo aspetto e questo timbro di voce per mantenere viva l'attenzione degli studenti durante le lezioni. Ma per qualche ragione sospettavo che l'avatar del signor Avenovic fosse e parlasse proprio come la persona che l'aveva creato. Gli insegnanti che avevo erano più o meno tutti fantastici. A differenza dei loro colleghi del mondo reale sembrava che agli insegnanti della scuola pubblica piacesse davvero il proprio lavoro e questo probabilmente perché non dovevano sprecare metà del tempo a fare da balia o da cani da guardia. Era il software a occuparsi della disciplina accettandosi che gli studenti rimanessero ai propri banni in silenzio. Tutto ciò che gli insegnanti dovevano fare era insegnare. Anche tenere alta l'attenzione degli studenti era più semplice online perché le aule erano come dei ponti ologrammi e ogni giorno i professori potevano portare gli studenti in gita virtuale senza nemmeno lasciare la stanza. Durante la lezione di storia mondiale di quella mattina il professor Avenovic cariconò la simulazione di quando gli archeologi nel 1923 scoprirono una tomba di Tutankham. Il giorno prima eravamo stati in quello stesso punto ma era il 1334 a.C. e avevamo visto con i nostri occhi l'impero di Tutankham in tutto il suo splendore. e via dicendo. Mi fermo qui per dire cosa. Qui c'è un'ipotetica, fantasiosa idea di quello che potrebbe essere la scuola tra 30 anni. Evidentemente si capisce che ci sono delle opportunità in questa scuola nella realtà virtuale ma immagino che vengano un po' di brividi a pensare che a un certo punto la scuola in presenza possa essere surrogata dalla realtà virtuale. Evidentemente queste prospettive pongono degli interrogativi perché da una parte è evidente che se questa tecnologia esistesse già oggi probabilmente sarebbe possibile continuare a fare lezione come l'abbiamo sempre fatta. Magari anzi con qualche vantaggio come ad esempio quello di poter andare a visitare la tomba di Tutankham insieme all'insegnante senza muoversi fisicamente dalla classe. Però anche con tutta una serie di interrogativi che si pongono sulla qualità della relazione mediata da un avatar e cioè mediata dalla realtà virtuale e soprattutto ci pone la domanda è davvero questa la scuola che vorremmo nel 2049? Concludo dicendo che probabilmente no, non è questa la scuola che vorremmo nel 2049 però sappiate che la tecnologia per farlo esiste già, deve essere solo potenziata per riuscire a far quello che è descritto in questo capitolo ma è già una tecnologia esistente, l'hanno già inventata e voi sapete che quando qualcosa esiste poi alla fine qualcuno potrebbe essere tentato di usarlo e quindi è una possibilità che concretamente non tra un anno e forse neanche tra 5 ma tra 10 anni potrebbe essere una realtà che qualcuno, non tutti, ma che qualcuno potrebbe decidere di percorrere magari una scuola di Londra come quella che abbiamo visto prima e che già fa una scuola virtuale anche se evidentemente non con questi strumenti descritti in questo capitolo. Quindi ecco io credo che forse questa situazione di oggi potrebbe essere, la pandemia e tutto quello che comporta potrebbe essere un'occasione per provare a pensare quello che la scuola potrà essere se noi la progettiamo, non se noi la subiamo dalla tecnologia, senza avere un unico riferimento che è quello della scuola in presenza così come la conosciamo e così com'è dall'ottocento ad oggi. Ecco, concludo appunto, avevamo detto prima di un sostituto imperfetto della didattica in presenza oppure, e questa è la domanda di chiusura, un'opportunità per ripensare la scuola? Ecco, su questa domanda io concludo, mi premeva fare questa premessa, giusto per sollevare delle domande, delle riflessioni da parte vostra e le sto leggendo in chat, a partire da Max Olivo dice abbiamo bisogno di una definizione della DDI data da terzi? Beh sì, diciamo non so se ne abbiamo bisogno ma in realtà qui è data non da terzi, sarebbe dovuta la definizione ma da chi in qualche modo l'ha nominata e l'ha lanciata nella scuola, cioè il ministero. Forse sarebbe stato opportuno una maggior descrizione di cosa si intende, anche perché nella mia esperienza personale di docenti intervistati, in realtà in questo momento se chiedi a dieci docenti cos'è la didattica digitale integrata, probabilmente avrai dieci risposte diverse. Poi vedo Fefer Tada, quasi cento anni fa Bradbury scriveva che non ci sarebbero state più macchine nell'anno 2000, beh insomma però sappiamo che se questa pandemia fosse successa nel 2010 o peggio ancora nel 2000, probabilmente la didattica è in distanza e una didattica in questo periodo non sarebbe potuta esistere e probabilmente sarebbe stato un problema per tutti noi affrontare la pandemia, il lockdown di primavera molto più di quanto lo sia stato, senza gli strumenti telematici a disposizione. Poi ci sono degli interventi, Lara Fina Ferrari, che saluto, Anita Granilli, in Edmondo è possibile? Allora devo chiarire che cos'è Edmondo perché forse tutti non lo sanno. Edmondo è un mondo virtuale per la scuola, promosso da Indire, di cui sono un po' il promotore in prima battuta, è un mondo virtuale molto meno avanzato di quello immaginato nel capitolo di Ready Player One che abbiamo letto finora, però pensate ad un videogioco, un videogioco online in cui ci si collega con l'avatar per intendersi, però dentro non c'è il gioco, c'è un ambiente tridimensionale in cui si possono incontrare altre persone e con altre persone comunicare, progettare e realizzare insieme delle cose. Sicuramente Edmondo e i mondi virtuali attuali, mi verrebbe anche da pensare a Minecraft per i più piccoli, perché anche Minecraft è un mondo online condiviso e anzi alcune scuole lo stanno usando proprio come classe virtuale. Verrebbe da pensare che in realtà questa tecnologia esiste già, in un certo senso è così, come fanno notare alcuni di voi, però chiaramente quello che è possibile fare oggi nei mondi virtuali è una frazione di quello che sarà possibile fare in futuro. Gabriella Bedini, secondo lei la fatica con la quale stiamo cercando di innovare la nostra metodologia didattica in questo tempo, porterà a cambiare la scuola o terminato questo periodo ritornerà tutto come prima. Io ho l'impressione che una certa forza centripeta ci sarà, cioè una facilità, chiamiamola così, a tornare al punto di partenza. È ovvio che dall'altra un evento epocale, un momento storico come quello che sta passando la scuola, degli strascichi li lascia. Vi faccio un esempio molto banale, io faccio formazione agli insegnanti da tanti anni, la formazione online in genere comportava un primo quarto d'ora in cui le persone bisognava mettere tutti in condizione di sentire, di vedere perché all'inizio c'erano sempre dei problemi. bene, da settembre i problemi sembrano spariti o quasi, gli eventi online iniziano subito, evidentemente c'è una familiarità con questi strumenti che prima non c'era e che nessuno potrà cancellare. Diciamo alcuni strumenti sono entrati nel bagaglio della stragrande maggioranza degli insegnanti volenti o nolenti e questo sarà difficile cancellarlo. Certo è che forse la parte metodologica di pedagogia legata a questa nuova modalità forse non è stata sufficientemente pensata, progettata, forse anche perché la pandemia non è arrivata quando volevamo noi, anzi non ce l'aspettavamo proprio. Quindi tutto questo è arrivato all'improvviso e quindi ci sono delle scuole che si sono organizzate, altre meno, però è stata evidentemente un'emergenza e una progettazione di emergenza. Quello che potremmo fare una volta conclusa o anche prima è provare a pensare a dei modelli e io ve ne ho dati alcuni, soprattutto lo scenario numero 4, quello delle classi aperte. Capite bene che paradossalmente le classi aperte sono più difficili da implementare in una scuola solo in presenza rispetto a una scuola dove la presenza è solo uno degli ambienti disponibili. Però questo evidentemente comporta delle scelte che non sono neanche del singolo insegnante, ma che sono proprio dell'istituzione scolastica e forse anzi direi che forse non basta neanche la singola istituzione. Forse sarebbe opportuna una rete di scuola a supporto di uno scenario di didattica digitale integrata in grado di sopravvivere alla emergenza del Covid. Leggo Lara Ferrari, dobbiamo fare di tutto perché non si ritorni al punto di partenza, perché gestito bene questo periodo può portare parecchio arricchimento. Io credo di sì, ed è anche un po' l'esperienza che vivo nell'essere a contatto con tanti insegnanti e quindi confrontandomi con quella che è la loro esperienza. Ci sono delle cose che stanno succedendo, ad esempio molti insegnanti vedo che in realtà non lavorano più la mattina e basta con gli studenti, ma lavorano anche il pomeriggio. Ci sono degli studenti che vengono continuamente interpellati da loro studenti anche nelle ore pomeridiane, a volte succede anche dopo, perché evidentemente la caratteristica forse principale della didattica non in presenza è la asincronicità, la possibilità per degli studenti di lavorare ad una cosa specifica, non solo dalle 9 alle 10 o dalle 10 all'11 con la presenza dell'insegnante, ma di poter in qualche modo organizzarsi un lavoro forse su un modello che viene più dal mondo professionale. Allora qui c'è una domanda interessante, Chiara Stancari diceva Vinci, i ragazzi soffrono la mancanza di relazioni, ne hanno bisogno, è parte dell'essere uomo. Allora io su questo vi dico quello che penso io, dunque è evidente che la presenza è un, ma non direi neanche la presenza, cioè il fatto di andare in un ambiente, cioè la scuola, tutti insieme, fisicamente ha un valore, prima ancora che è didattico di socializzazione secondaria, sapete no, sappiamo che la scuola è il luogo in cui a un certo punto si esce dal primo ambito che noi abbiamo conosciuto e ci confrontiamo con un ambito nuovo. Però mi permetto di sottolineare questa parola che Chiara usa, mancanza di relazione, perché evidentemente la relazione è possibile in presenza o comunque forse è opinione comune e ci sono anche dei motivi, per cui la relazione a distanza è una relazione falsata. Forse è questo il principale, la principale critica che viene fatta ai social network, no? Quante volte si sente dire, ma perché invece di star lì a comunicare con non vai fuori e le incontri davvero le persone? Evidentemente dietro a questo c'è l'idea che la relazione attraverso gli strumenti telematici sia una relazione falsata. Io mi permetto di dire che non sono d'accordo, non credo che la relazione a distanza sia mancanza di relazione, evidentemente è una relazione di tipo diverso. Non credo neanche che la relazione a distanza sia una relazione falsata e cioè che per conoscere davvero qualcuno bisogna in qualche modo essere, averlo sottomano, cioè poterlo frequentare con la presenza. Io credo che si possa conoscere qualcuno anche a distanza o per contro, io credo che in realtà il conoscere davvero qualcuno o no non dipenda né dalla presenza né dalla distanza. Vi faccio un esempio personale. Io quando andavo a scuola, nella scuola superiori, notai, l'ho notato a posteriore perché era un ragazzo soprattutto nei primi anni, notai che la mattina quando andavo a scuola a Firenze, io che sono di un paesino a 30 km da Firenze, notai che in realtà la mattina a scuola in quel contesto con quelle persone, con quei compagni di scuola ero una persona e poi nel pomeriggio con i miei amici del paese ero un'altra persona. Mi adattavo al contesto, avevo, non dico due identità diverse, ma probabilmente avevo due personalità diverse, a seconda dell'ambiente che frequentavo, la scuola la mattina, gli amici, il paese il pomeriggio. Evidentemente era il contesto a cui io mi adattavo e quando io mi relaziono a qualcuno attraverso i social network è evidente che il contesto social network ha un'influenza su come gli altri mi vivono e su come io vivo gli altri, ma questo non dipende dal fatto che siamo mediati da una tecnologia, ma dipende dal contesto a cui tendiamo molto spesso ad adattarci. Vi parlavo dei mondi virtuali, io mi capita spessissimo di comunicare, di incontrare virtualmente degli insegnanti nei mondi virtuali e alcune di queste persone le ho conosciute solo dopo qualche anno, eppure in qualche modo quando le ho conosciute in presenza le ho riconosciute, in qualche modo era davvero come se noi ci conoscessimo da un po' di tempo. Ecco, questa è una cosa che mi è capitato molto spesso, questo per dire che è evidente che c'è una qualità della relazione in presenza e una qualità della relazione a distanza, che forse in questo momento è anche penalizzata da due fattori. Uno, la tecnologia. Sappiamo che tra dieci anni la qualità della relazione abilitata alle tecnologie sarà più alta. Due, probabilmente dalla minor dimestichezza che noi abbiamo con la distanza, con la relazione a distanza rispetto alla relazione in presenza. Minore dimestichezza che però è più un problema agli insegnanti come sappiamo che degli studenti. Leggo ancora delle cose, Rosa Salerno ad esempio, gli studenti di oggi potranno essere domani gli insegnanti capaci di pensare a una scuola innovativa? Credo di sì, anche perché voi lo sapete bene, la scuola è un qualcosa che un insegnante impara, soprattutto quando entra a scuola, il modello di riferimento è la scuola che ha fatto lui. Sapete, sappiamo che non c'è una scuola, un'università, c'è stata a un certo momento, se vi ricordate all'inizio degli anni duemila, ma non c'è una vera e propria formazione a un modello di scuola, magari quello delle indicazioni. Quindi è evidente che l'influsso, il modello della scuola che abbiamo frequentato significa tantissimo. Quindi se gli studenti saranno in grado da studenti di sperimentare una scuola nuova sicuramente saranno insegnanti capaci di pensare una scuola nuova. Dunque, un altro intervento. Questo non potrebbe diventare un rischio, niente orario, domenica o feste. I messaggi non verbali sono molto più importanti quando parliamo di ragazzi e ragazzi con timidezza e si perdono tutti con didattica a distanza. Dunque, credo che il rischio a cui si riferisca è qualcosa che ho detto qualche minuto fa, riferito al fatto che evidentemente nella didattica a distanza si rischia di non avere più orari, cioè si partecipa in presenza nella scuola normale dalle 8.30 fino alle 1 oppure oltre, però chiaramente poi si stacca. Mentre nella didattica a distanza in molti casi non si stacca. Lo dico da smart worker in questo momento, è molto più complicato rispetto a quando mi reco in ufficio, distinguere quando sto lavorando e quando non sto lavorando, perché il tempo di lavoro entra continuamente a tutte le ore anche dopo cena nel tempo libero e a volte il tempo libero entra nel tempo di lavoro, però diciamo non è più un tempo contingentato e questo evidentemente è un rischio e che richiede una strategia, però è anche un'opportunità, quella di poter distendere il lavoro e di usare una modalità asincrona per poter lavorare. Poi sempre dello stesso messaggio, i messaggi non verbali sono molto più importanti quando parliamo di ragazzi e ragazze con timidezza e si perdono tutti con didattica a distanza. Sono anche alcune impressioni di alcuni insegnanti che mi hanno spiazzato, che ho intervistato e che mi hanno dato risposte spiazzanti in alcuni casi. Non so se sia anche la vostra esperienza e cioè mi hanno detto che alcuni studenti che in classe in qualche modo erano molto più, alcuni studenti che in classe quando la classe era aperta erano molto più attivi e che si sono un po' spenti nella distanza, a fronte di questo alcuni insegnanti hanno rilevato anche l'effetto opposto, cioè alcuni studenti che in realtà subivano la presenza in qualche modo nella distanza hanno trovato una dimensione più consona. Evidentemente stiamo parlando di casi non diffusissimi, però un insegnante in particolare mi diceva che alcuni studenti subivano la mancanza di quel palcoscenico che la classe dà, mentre altri traevano proprio vantaggio da questa assenza di palcoscenico che probabilmente gli provocava una qualche timidezza. quindi ecco, in realtà io ho registrato a tutte e due i comportamenti, anche se sono pochi gli insegnanti che mi hanno detto questo, però ecco ci tenevo a dirvelo. Annina Atena, la relazione fisica a distanza, parlo dell'apprendimento attraverso il concreto, passando dal corpo all'astrazione dei concetti, tramite anche l'educazione fisica, come lo risolviamo o non importa? Beh sì, è evidente che c'è una parte fisica, che non è solo legata alla disciplina fisica, ma è tutta una parte legata alla fisicità, che diciamoci la verità, nella scuola non è che abbia mai avuto un gran ruolo, ok? Però evidentemente nel passare alla distanza rischia a questo ruolo di essere ancora più penalizzato. Però ecco, forse questa parte della, diciamo così, del corpo andrebbe ripensata anche per quanto riguarda la presenza, per quello che è la mia esperienza di studente e per quello che posso vedere e per l'impianto della scuola attuale. Vado veloce, scusate. Mi scusi, ma questa esperienza lei l'ha vissuta già adulto? I ragazzi e le ragazze sono in formazione, in costruzione. Allora, non so se l'esperienza era quella del virtuale, questa domanda è di 5 minuti fa. Sì, io credo che la presenza non... allora, chiariamoci, qui non si tratta di... scusatemi... la presenza non dovrebbe... ripensare la scuola non significa pensare che si possa fare a meno della presenza. Io significa ripensare anche la presenza, perché è vero la formazione in costruzione, però io faccio sempre un esempio su di me, ok? Almeno sono sicuro, perché me lo ricordo, ho una memoria anche dei primi anni della primaria. Allora, io si sente spesso dire in questi giorni, dice, come fai a tenere dei bambini così piccoli, 5 ore davanti allo schermo. Allora, la mia esperienza da studente nella scuola in presenza è che io non riuscivo a stare 5 ore lì, seduto al banco, come succedeva negli anni 80, probabilmente ora c'è una didattica un po' più attiva, però a me il problema personalmente mi si poneva già allora. Io ero considerato irrequieto e l'irrequietezza non era solo che io volevo fare confusione, non era tanto quello, è che proprio facevo fatica a stare fermo, 5 ore su un banco e vi dico la verità, faccio fatica anche oggi, quando una riunione dura più di due ore mi viene la smania, come si dice a Firenze, ok? Quindi ecco, io quando parlo di ripensare il modello scuola non significa pensare che si possa fare a meno della presenza, ma per me vuol dire approfittare di un momento, seppur disastrato, per provare a mettere in discussione alcuni cardini della scuola così come l'abbiamo conosciuta e che potrebbero trarre vantaggio dalle modalità che non sono più solo in presenza e che in qualche modo invece che surrogarla o farne la copia imperfetta potrebbero cominciare a fare delle cose diverse. Chiara, la maggior parte dei ragazzi dietro uno schermo si zittisce, si autolimita, l'interazione muore. Questo però Chiara è un po' in… cioè i ragazzi, la critica che facciamo ai ragazzi è che davanti allo schermo ci stanno troppo, ok? Quindi evidentemente loro non sono a disagio davanti allo schermo, sono a disagio quando quegli strumenti che loro usano con frequenza anche troppo, al punto che noi dobbiamo limitarli, quando vengono usati per la scuola. Questo è un discorso da capire perché quello che si vede in giro è che i ragazzi davanti allo schermo ci stanno tutto il giorno, pure troppo. Bisogna cercare di capire come mai quando è la scuola a accendere lo schermo i bambini si zittiscono. Questo secondo me sarà da capire e evidentemente ci vorrà del tempo e io credo che però questa situazione sia un ottimo punto di osservazione per questo. Sì Chiara, leggo l'ultima nella chat. Solo pochi ragazzi hanno benefici della mancanza di palcosceni. È vero ma sono pochi. Sì, credo anch'io e in effetti sono pochi gli insegnanti che mi hanno fatto notare quanto ci siano anche degli studenti che in qualche modo si, tra virgolette lo dico, si avvantaggiano della distanza. Però ecco, è interessante il dato che evidentemente la scuola, la classe, il setting d'aula della scuola è un palcoscenico a cui, che evidentemente fa più gioco ad alcuni studenti che ad altri, al primo della classe o è non solo. Però evidentemente bisogna secondo me capire se il palcoscenico sia una condizione pedagogicamente sempre opportuna in ogni caso, oppure se ci siano delle situazioni diverse, personalizzate forse si potrebbe dire, che in qualche modo possono essere combinate per venire incontro anche alle personalità, alle capacità e alle, diciamo così, alle intelligenze di ognuno. Allora, ho letto l'ultima frase in chat che era di Chiara, non ne vedo arrivare altre cose, e allora forse essendo le 17 e 26 si potrebbe provare a fare una breve chiusura su questo incontro, che aveva un titolo molto provocatorio, e cioè se è possibile una scuola senza la scuola. Evidentemente non è quello che vogliamo, cioè non è che noi vogliamo che da domani non esista più un edificio che non ha solo una funzione didattica, ma ne ha tante altre, forse anche troppe, mi verrebbe da pensare, se penso soprattutto a tutte quelle mamme che se ai bambini sono a casa gli si scombina la vita al punto che arrivare vicino a una crisi di nervi. Evidentemente le funzioni della scuola sono tante, sono didattiche, sono di socializzazione secondaria, sono probabilmente anche esigenze di organizzazione di una società in cui tutti e tutti i due i genitori lavorano e hanno bisogno di un'istituzione che si prenda in carico dei bambini fino ad una certa ora. Leggo anche Mariuccia, scusate, nella scuola dove insegnavo la presenza dei studenti estracomunitari era massiccia. Ora i miei docenti mi dicono ci sono quelli che sono stati maggiormente avvantaggiati dalla DAD. Beh, sì, ci sono in realtà, ora stamattina negli Stati Generali si parlava invece di alcuni dati che dicono il contrario, cioè che le famiglie più disagiate si sta creando un divario, si sta accentuando il divario tra famiglie agiate e disagiate perché chiaramente la didattica a distanza prevede che tu hai da una stanza a casa, un computer e che magari ha possibilmente una stanza dedicata quindi evidentemente in questo momento c'è una condizione di disparità dovuta proprio all'ambiente casa più che all'ambiente scuola. Però credo anche io che in alcuni casi dove ci sono delle condizioni la distanza possa far emergere dei valori che la classe non fa emergere. io credo che sia sbagliato considerare la classe come un ambiente neutro. La classe evidentemente non è un ambiente neutro, avvantaggia tra virgolette alcuni tipi di studenti rispetto altri e probabilmente ci sono degli ambienti complementari che potrebbero in qualche modo in alcuni casi compensare. Lara Ferrari, credo sia necessario ripensare all'attività da proporre ai nostri alunni e di renderli protagonisti dei loro percorsi. È un'opportunità, lo dicevamo anche prima del Covid questo, questo è un discorso che nella scuola circola ha molto tempo, scusatemi, e cioè l'opportunità di ripensare il modello scolastico che è incentrato sulla famosa tradizionale didattica trasmissiva. Sappiamo che la scuola di oggi non è solo didattica trasmissiva, ci sono molte esperienze che conosco e che vanno in un altro verso, però ecco forse se c'è un carattere distintivo di quello che è successo in questo periodo è che c'è più avuto addosso, lo dobbiamo gestire, questo crea da una parte anche una posizione difensiva rispetto a quello che succede, al punto che è probabile che in un'emergenza come questa, in una difficoltà come quella che stanno affrontando molti insegnanti, c'è il rischio che non appena la scuola possa tornare normale non si veda l'ora di finirla con quello che sta succedendo, perché evidentemente sta ponendo molti problemi. Però ecco la spinta al rendere protagonisti gli studenti c'era prima della pandemia, però la didattica digitale integrata, soprattutto alcuni scenari come quelli che abbiamo visto prima, la didattica digitale integrata, potrebbero paradossalmente come dicevo prima, rendere più facile allestire dei setting in cui ci sono studenti che lavorano per progetti e che si confrontano con l'insegnante non solo nell'ora di matematica o di fisica, ma durante la giornata, perché loro in qualche modo si stanno gestendo il loro tempo scuola, non ripartito per ore in materia in maniera netta come deve per forza accadere la mattina in presenza, ma con dei modelli che assomigliano forse più a dei modelli del mondo del lavoro che nel mondo della scuola, in cui si lavora per progetti, i progetti si intersecano, si lavora con persone diverse su progetti diversi e questo in qualche modo potrebbe essere, lo ripeto ancora, avvantaggiato dalla didattica digitale integrata rispetto a una scuola fatta di lezioni la mattina in presenza e compiti a casa il pomeriggio. Siamo arrivati alle 17.31, quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, per le domande che avete fatto e vi auguro buon lavoro perché evidentemente ce n'è un gran bisogno e grazie a tutti per aver partecipato. Buona serata.